Ciao e bentornati. Ora eseguiremo degli esercizi di allungamento per tutto il corpo. Iniziamo. Posizionati con l'apertura delle gambe in linea con il bacino. Inclina la testa lateralmente. Mantieni giù le spalle, rilassate. Inizierai a sentire una leggera tensione a livello del trapezio. Con movimenti lenti cambia lato. Ripeti per tre volte. Ora immagina di disegnare dei cerchi con la punta del naso. Ne facciamo tre in un senso e tre nell'altro. Circonduzioni delle spalle. Tra indietro e tra in avanti. Ora porta le mani alle spalle e ripeti le circonduzioni. Infine, con le braccia tese, ricerca la massima ampiezza. Rimani lì, io mi giro per farti vedere meglio. Inspira. Ed espirando, inizia a scendere. Porta il mento verso lo sterno. Una vertebra alla volta. Lascia andare la testa verso il pavimento. Cominciamo a risalire. Piega le gambe. Attiva gli addominali. Srotola sempre una vertebra alla volta. Ripeti per tre volte. A gambe divaricate, apri la punta del piede. Piega il ginocchio a 90 gradi e gradualmente scendi con il bacino. Appoggia l'avambraccio sulla coscia e allunga l'altro braccio, fino a creare una linea unica tra il piede a terra e la mano. Unisci le mani verso l'alto. Ruota il bacino e se te la senti, inarca leggermente la schiena. Scendi con il busto, appoggia le mani a terra e ruota il piede dietro. La gamba dietro è tesa. Spingi l'ombelico in dentro, schiena dritta, testa in linea. Ritorno al centro. Srotolo la schiena e ripeto tutto dall'altro lato. Srotolo la schiena e ripeto tutto dall'altro. Ritorno al centro. Allunghiamo il quadricipite. Avvicina il tallone al gluteo e cerca di tenere le ginocchia più vicine possibili. Per aiutarti con l'equilibrio, stringi i glutei e guarda un punto fisso davanti a te. Porta indietro in appoggio la gamba che ha lavorato. Ruota il piede di 45 gradi e inclina il busto in avanti. La gamba avanti rimane tesa e la punta spinge verso la tibia. Tieni giù la testa. Ripeti con l'altra gamba. Stretching del deltoide. La mano sinistra abbraccia e sostiene il braccio destro e con una dolce e continua pressione avviciniamo il gomito al petto. Tieni le spalle rilassate. Passiamo ai flessori del carpo. Mantieni il braccio teso. Fletti il gomito. La mano opposta tiene il gomito e sentirai l'allungamento a livello del tricipite. Ripeti tutta la sequenza con l'altro braccio. unisci i piedi e le mani sopra la testa. Inspira al centro ed espirando inclina il busto lateralmente. Inspira, torna al centro ed espira scendendo dall'altra parte. ora fletti leggermente la colonna lì indietro ma non spezzare il collo. Piega le braccia per un ultimo allungamento del tricipite. Ora facciamo tre grandi respiri. Inspira con il naso ed espira dalla bocca. Grazie di essere stato con me. Se il video ti è piaciuto iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo video! Ciao! Ciao!